Buonasera. Buonasera. Sto cercando un paio di jeans. Sì, di che tipo? Semplici e comodi. Che taglia porta? La 46. Bene, le faccio vedere subito alcuni modelli. Grazie. Questo è un modello semplice. Lo può provare così mi dice se le va bene. Mi vanno bene. Ne avete più scuri? Adesso guardo. 46 ho questo paio di jeans scuri. È l'ultimo rimasto dalla sua taglia. Quanto costa? Quello che ha provato costa 40 euro. Quello scuro invece 54. Ma le faccio un po' di sconto. Lo provi intanto. Mi va un po' stretto. Peccato. Avete per caso anche magliette per bambini? Certo. Dipende dalla taglia. Mia figlia porta la small. Ne abbiamo di carine. Da abbinare anche a pantaloni e gonne. Glielo dico. Poi magari passiamo insieme. Benissimo. Allora sono 40 euro. Ecco a lei. Grazie e arrivederci. Un attimo che le do lo scontrino. Arrivederci. Buonasera. Buonasera. Come la posso aiutare? Mi servono un paio di pantaloni scuri. Sì. Che taglia porta? La 46. Bene. Le faccio vedere questo paio. Sono molto eleganti. Belli. Ma quanto costano? Costano 65 euro. Ma le posso fare uno sconto. Posso provarli? Certo. L'ha nel camerino. Come mi stanno? Le stanno molto bene. Qui c'è uno specchio, guardi. Le piacciono? Sì. Ma mi deve fare un po' di sconto. Perché devo comprare anche dei calzini per mio figlio. Va bene. Che tipo di calzini vuole? Ma mi servono per fare sport. Ah, va bene. Allora le servono dei calzini di spugna. Sì. Ecco, guardi. Questi sono di taglia media. Le dovrebbero andare bene. Quanto vengono? In tutto, con i pantaloni scontati, le posso fare 55 euro. Va bene. Grazie.